Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono anche attiva su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. 20 anni l'età della spensieratezza e dell'adrenalina, delle feste con gli amici che si protraggono fino a notte fonda, ma dove a volte il pericolo è in agguato. Meghan McDonald è la giovane protagonista del caso di oggi, figlia di un'infermiera e di un detective talentuoso, dirigente e molto rispettato che lavora da 20 anni nella polizia di New York. Meghan ha una sorella di nome Karen e la sua famiglia viveva nel Queens prima di trasferirsi nella contea di Orange, nello stato di New York. La nuova casa ha un cortile in cui Meghan può giocare e lei è una ragazzina piena di vita, solare e amorevole. Adora gli animali fin da piccola, infatti prende in braccio e coccola il suo gattino in continuazione. Da sempre Meghan è tanto legata a tutti i membri della sua famiglia, ma custodisce un rapporto speciale con suo padre. Purtroppo però lui viene improvvisamente a mancare nel 2002 a causa di un attacco cardiaco. All'epoca Meghan ha soltanto 19 anni ed è devastata da questa perdita. Le persone vicine a Meghan raccontano che lei ha passato davvero un periodo difficilissimo, faceva fatica ad affrontare il lutto, non si dava pace, pensando che suo padre se n'era andato così presto. Questo tragico evento le causa rabbia e confusione, ciò nonostante Meghan riesce a concentrarsi per costruire il suo avvenire. Nel 2000 si era diplomata alla Burke Catholic School, per poi continuare a studiare all'Orange County Community College. Pur frequentando l'università con determinazioni, Meghan comincia anche a lavorare come cameriera nel ristorante American Cafe, situato in un centro commerciale che si trova a Whirlkill. Anche se Meghan sta metabolizzando la drammatica morte di suo padre, è molto entusiasta sia del college che di questo lavoro. Da poco ha anche firmato il contratto per trasferirsi in un nuovo appartamento e ha cominciato una nuova relazione. La vita quantomeno le sta regalando soddisfazioni e motivi di felicità e Meghan vuole festeggiarli con gli amici. Il 13 marzo del 2003 alle 10.30 del mattino Meghan si presenta al locale per cominciare il suo turno di lavoro e va via alle 15, come previsto. Torna quindi nel suo nuovo appartamento e un'amica la invita a una festa a Greenway Terrace, ma Meghan rifiuta l'invito perché viene a sapere che anche Edward, il suo ex fidanzato, avrebbe partecipato al party e lei preferisce evitare di vederlo. Decide così di uscire con un'altra comitiva di amici a Middletown. Alle 19.30 arriva a casa di una sua amica dove si sta svolgendo un'altra festa e chiama cinque o sei amici per capire se può procurarsi un po' di sostanza leggera, ma nessuno riesce a fornirgliela. Così, verso mezzanotte, decide di andare via. È ormai il 14 marzo del 2003 e Meghan saluta gli amici dicendo che tornerà subito a casa perché il giorno dopo deve lavorare. Alcuni testimoni la vedono sulla strada di rientro presso la stazione di servizio ATK a Middletown dove chiede all'impiegato un sigaro olandese. Poi, a differenza di quanto preannunciato, Meghan si ferma a quell'altra festa a cui era stata invitata che si sta svolgendo in zona Greenway Terrace. Ha una breve conversazione con un'amica nella macchina di quest'ultima, ma a mezzanotte 17 le dice che deve allontanarsi per andare a fumare della sostanza leggera. Entro mezzanotte 20 Meghan prova a telefonare a un suo ex fidanzato, non Edward, bensì un altro ragazzo che è il fratello di uno degli amici presenti alla prima festa, quella a Middletown. Tuttavia scatta immediatamente la segreteria telefonica e Meghan non lascia alcun messaggio. Tra la tarda notte e le prime ore del mattino, dunque a cavallo tra il 13 e il 14 marzo, Meghan ha anche fatto un totale di sei chiamate al ragazzo che sta frequentando in questo periodo. L'ultima telefonata risale a mezzanotte 20, poi 5 minuti dopo Meghan arriva in prossimità di casa sua e lui sale nella sua macchina e siede accanto a lei. Tuttavia neanche il suo ragazzo ha della sostanza leggera a disposizione, allora Meghan gli dice che avrebbe potuto provare a ottenerla grazie al suo ex fidanzato Edward, che come sapete si trova alla festa a Greenway Terrace. A mezzanotte 30 un amico vede la macchina di Meghan, una Mercury del 1991 bianca, attraversare il complesso di appartamenti di Kensington Manor a Walkill e c'è una Honda Civic di colore scuro che avanza subito dietro di lei. Dopodiché nessuno sa dove sia andata Meghan o cosa le sia successo. Già, perché questa è l'ultima volta in cui viene vista viva. Come detto il 14 marzo 2003 è un normale giorno di lavoro per Meghan, ma lei non si presenta per il suo turno all'American Cafe, che avrebbe dovuto cominciare a mezzogiorno. Tutti quelli che la conoscono si preoccupano, i suoi colleghi, i suoi familiari, i suoi amici, perché non è da lei non dare notizie se ha avuto un imprevisto. Per tutto il giorno le persone vicine a Meghan provano a chiamarla ripetutamente sul cellulare, ma non ricevono mai risposta e le lasciano in vano dei messaggi allarmanti in segreteria. Non è chiaro se sia mai stata denunciata ufficialmente la sua scomparsa, ma i tragici sviluppi di questa storia emergono già il giorno seguente. A lune 15 del 15 marzo, in una notte tetra, due persone camminano in un campo, stanno attraversando un sentiero stretto e sterrato fuori da Browser Road a Walkill e si imbattono nel cadavere di una giovane donna. La zona versa nella desorazione, il sentiero conduce a un angusto vicolo cieco e i due testimoni, sgomenti, chiamano immediatamente il 911. Quando la polizia arriva, controlla subito il corpo e trova la patente di guida della vittima nel suo portafoglio. Questa viene identificata come la ventenne Meghan McDonald. Gli agenti, considerando la zona del ritrovamento, ipotizzano che il suo assassino conoscesse molto bene quel posto. Il corpo di Meghan viene affidato al medico legale per l'autopsia e il patologo forense stabilisce che la causa della sua morte è il risultato di fratture multiple del cranio e lesioni cerebrali dovute a un trauma da corpo contundente subito appunto alla testa. Meghan è stata picchiata a morte. La polizia intanto ha avviato le indagini, parla con i testimoni che hanno visto Meghan la notte in cui è scomparsa e cerca di individuare la macchina della vittima. Dalle dichiarazioni dei differenti testimoni si evince che Meghan si era recata a più di una festa in città diverse e in compagnia di persone diverse. La polizia comunica anche ai media che stanno cercando una berlina Mercury del 1991 bianca a quattro porte. Il 17 marzo del 2003 un residente del complesso di appartamenti di Kensington Manor si fa avanti, va dalla polizia e riferisce che l'automobile di Meghan è parcheggiata proprio lì. Gli agenti si recano sul posto, trovano la macchina e perlustrano il complesso di appartamenti per parlare con altri residenti. Almeno quattro testimoni riferiscono di aver visto l'auto della vittima parcheggiata lì dal 14 marzo, ovvero dalla notte in cui era scomparsa. Come detto, qualcuno ha visto che Meghan attraversava il complesso residenziale con al seguito una Honda Civic scura a quattro porte. Si sospetta quindi che la persona a bordo di questa vettura abbia a che fare con la scomparsa della ventenne. La polizia sequestra la macchina di Meghan e un'unità forense la esamina concludendo che lì dentro era avvenuto un feroce attacco. Si rileva nei segni di un'aggressione violenta e pare che il colpevole avesse usato un'arma portatile per sferrare alla vittima colpi multipli indirizzati alla testa. Le prove raccolte evidenzano che Meghan era stata trafitta sul capo più volte tramite un oggetto contundente, proprio mentre sedeva al posto di guida dell'auto. Come ho raccontato prima, Meghan usciva con un ragazzo di cui non è noto il nome, infatti nei rapporti della polizia è identificato come il sospettato numero due. Meghan però aveva chiuso soltanto da pochi giorni la relazione con Edward Holly, anche lui tra i principali sospettati. Il sospettato numero due, dunque l'attuale fidanzato di Meghan, era stato visto in macchina con lei poco prima che la ragazza scomparisse. Lui durante l'interrogatorio spiega che Meghan era passata a prenderlo verso mezzanotte e mezza. Poi lo aveva subito riaccompagnato a casa dopo essersi fermata alla festa a Greenway Terrence, dove intendeva recuperare della sostanza leggera da Edward. Durante l'interrogatorio iniziale il sospettato numero due riferisce anche che lui e Meghan avevano iniziato a frequentarsi solo da pochi giorni. Per tre notte consecutive lui aveva dormito a casa di lei, prima che avessero luogo quelle feste. Gli investigatori scoprono che il sospettato in questione però conosce molto bene la zona in cui è stato rinvenuto il corpo di Meghan. Alcuni testimoni che possiedono diverse proprietà lungo quella strada sterrata confermano alla polizia di aver dato personalmente il permesso di frequentare la zona al sospettato numero due. La situazione quindi per lui non si mette bene visto che la polizia era già propensa a credere che l'assassino avesse una certa familiarità con il posto in cui il cadavere era stato abbandonato. Tuttavia le indagini devono proseguire ed emerge che Edward potrebbe avere un movente valido per l'omicidio di Meghan e di natura economica. A partire da maggio del 2002 Meghan aveva iniziato a ricevere 1250 dollari al mese provenienti dalla pensione del padre che aspettavano a lei a seguito della sua morte. Oltre a questo importo Meghan ovviamente percepiva anche lo stipendio per il lavoro svolto nel locale e i suoi cari lo descrivono come una ragazza molto responsabile nel gestire le proprie finanze infatti aveva accumulato una discreta somma di denaro. Nel corso delle indagini la polizia nota che il 10 maggio dell'anno precedente Meghan aveva il conto bancario in rosso per una montale di 869 dollari e 92 centesimi. Questa è la prima volta in cui si è verificato un simile episodio. Nel suo interrogatorio Edward infatti dice alla polizia che mentre stava ancora insieme a Meghan lei lo aveva aiutato a comprare una macchina. Lui le doveva ancora dei soldi ma pochi perché quel veicolo a detta sua era costato soltanto 300 dollari e si trattava proprio di una berlina Honda Civic viola del 1990. Tuttavia un caro amico di Edward e Meghan si fa avanti. Va alla polizia e rivela che Edward gli aveva detto che doveva restituire a Meghan 3000 dollari per quell'auto e non 300. Inoltre Edward aveva detto all'amico che non aveva intenzione di saldare il prestito concesso dalla ragazza. Il testimone aggiunge che Meghan era davvero arrabbiata con Edward ecco perché aveva deciso di lasciarlo circa tre giorni prima della sua morte. La polizia interroga Edward sull'accaduto e lui spiega che in quell'occasione avevano avuto un litigio che è indicato nel rapporto della polizia come una semplice discussione. Dopodiché Edward non aveva più visto Meghan, non avevano più avuto contatti nei giorni successivi alla lite, conclusa con la scelta di Meghan di troncare la relazione con Edward. Questo fatto viene poi confermato quando effettivamente la polizia controlla i tabulati telefonici di entrambi i cellulari, i quali dimostrano che l'ultima chiamata effettuata da Meghan a Edward risale all'11 marzo alle ore 20 e 16. Quindi mentre dal 25 febbraio all'11 marzo i due fidanzati si erano scambiati un totale di 43 chiamate, poi i contatti erano stati azzerati. Le tre notti in cui Meghan non ha contattato Edward corrispondono a quelle da lei trascorse in casa propria con il nuovo fidanzato. Tuttavia pare ci sia qualche sovrapposizione tra il momento in cui Edward stava ancora contattando Meghan e quello in cui lei aveva iniziato a vedere il suo nuovo ragazzo. Dunque si deduce che la prima importante discussione orientata verso la rottura del rapporto fosse avvenuta prima dell'11 marzo. Come già detto Meghan poi aveva riprovato a contattare Edward proprio durante la notte del 13 marzo perché voleva procurarsi della sostanza leggera. Edward confessa agli investigatori tranquillamente di essere il principale corriere della sostanza della zona, infatti lui e Meghan facevano uso della sostanza ogni singolo giorno. Dunque quella notte da prima Meghan aveva contattato in vano 5 o 6 persone diverse per cercare di procurarsi della sostanza leggera ma alla fine si era convinta a chiedere aiuto a Edward. Sì avevano litigato, si erano lasciati e non si sentivano da giorni ma lui era la sua ultima risorsa per poter fumare. Quindi era passata con il suo nuovo ragazzo alla festa a Greenway Terrence sperando di rifornirsi grazie a Edward. Edward ammette di sapere che Meghan era passata da lì e che lo aveva cercato ma sostiene di non averla vista. Dopo la festa era andato direttamente a casa a dormire. Quindi è difficile stabilire se Meghan alla fine fosse riuscita a procurarsi la sostanza o se stesse ancora vagando alla ricerca della sostanza fermandosi al complesso di appartamenti. E se in realtà lei e Edward si fossero visti e avessero deciso di rincontrarsi più tardi? In ogni caso queste sono le uniche informazioni che la polizia ha ottenuto durante le indagini. Gli investigatori sanno che il ragazzo di Meghan è l'ultima persona ad averla vista in vita, che era in macchina con lei quella notte. Sanno che Meghan e il suo ex Edward avevano avuto un litigio pochi giorni prima dell'omicidio della ragazza. È noto che lei stava cercando di evitare di contattarlo fino a quando non ci aveva ripensato per soddisfare un proprio interesse nel primo mattino del 14 marzo. Quanto all'attuale fidanzato di Meghan, per la polizia lui avrebbe avuto più occasioni di ucciderla. Era stato a stretto contatto con lei nei giorni precedenti, eppure non aveva agito. Del resto non si individua alcun movente che potesse spingerlo ad ammazzarla. Al contrario Edward aveva più di una motivazione concreta, quella economica e quella dettata dalla gelosia perché era venuto a sapere della nuova relazione di Meghan e questo lo aveva fatto infuriare. Lei lo aveva lasciato ed era sparita fino a quando non aveva pensato di servirsi di lui per ottenere la sostanza. Il percorso di risoluzione del caso di Meghan McDonald diventa molto più lungo del previsto. Infatti anche se la polizia ha individuato due sospettati, non ha elementi sufficienti per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che uno di loro è il responsabile dell'omicidio. Nel corso del ventennio successivo, così afferma alla polizia, sono state intervistate centinaia di persone. È iniziata una collaborazione con l'FBI ed è stata prevista una ricompensa di 10.000 dollari per coloro che avessero fornito informazioni. Sono stati affissi dei manifesti a Middletown con le foto di Meghan e un numero di telefono che i cittadini potevano contattare per dare suggerimenti. La polizia sostiene di aver raccolto più di mille indizi, comprese delle tracce di DNA, sperando che una tecnologia più evoluta per l'analisi dei profili genetici potesse condurre a delle risposte certe in futuro. Nel frattempo, nel 2010, il sospettato numero due era venuto a mancare. Il caso di Meghan, che lo vedeva coinvolto, viene discusso dalla trasmissione Dateline più di una volta e questo sprona la polizia ad andare avanti con la indagine a non fermarsi. Nel 2002 la polizia può avvalersi delle nuove tecnologie per riesaminare il caso e, all'inizio del 2023, ottiene il supporto di una società privata di tecnologia e informatica nell'analizzare i dati dei cellulari di Meghan e Edward. Come ho già detto, si presume che la discussione tra i due fosse avvenuta prima dell'11 marzo, giornata a cui risale l'ultima comunicazione tra loro. Sembrava che questo litigio li avesse spinti a lasciarsi, tuttavia forse Meghan aveva iniziato a vedere il suo nuovo fidanzato anche prima rispetto a questa data. Questo perché il 9 marzo del 2003 Meghan aveva ricevuto una chiamata da un numero di telefono a cui non aveva risposto. Però questo contatto aveva lasciato un messaggio in segreteria dicendo «Sono appena passato davanti a casa tua e ho visto che lui è lì. Fammi sapere quando ricevi questo messaggio». Molto più avanti nel tempo, cioè durante le indagini del maggio del 2022, questa voce viene identificata come appartenente a Edward. Quindi lui sapeva già della relazione tra Meghan e il suo nuovo ragazzo e non era di certo contento. Probabilmente non soltanto l'11 marzo, ma già il 9, se non ancora prima, c'erano state delle forti discussioni tra Edward e Meghan. L'invio del messaggio vocale di Edward corrisponde a un momento in cui il nuovo fidanzato di Meghan stava già trascorrendo la notte a casa di lei. Durante gli interrogatori che la polizia ha condotto nel corso degli anni, vari testimoni hanno affermato che Edward era stato coinvolto in rapporti intimi con diverse donne mentre si frequentava con Meghan. Tuttavia la polizia ritiene che Edward era infatuato di Meghan. Lui dice che l'amava. In un altro interrogatorio che Edward ha sostenuto con la polizia nel marzo del 2019, ha parlato dei vari ex di Meghan che non gli piacevano e con cui non andava d'accordo. Questo ha convinto la polizia che Edward era gelosa e possessivo nei confronti della ragazza. Per quanto ne sappiamo, la notte dell'omicidio Meghan ha visto il ragazzo che stava frequentando, ma poco prima aveva anche chiamato un altro suo ex, uno che a Edward non piaceva affatto. Tanto che in passato aveva rimproverato Meghan per aver parlato con lui. In ogni caso nel giugno del 2021 viene eseguito un test in laboratorio per analizzare le tracce di DNA raccolte dalla polizia precedentemente. Si rileva sia il DNA di Edward che quello di Meghan sul cellulare della ragazza. Dunque la polizia crede che Edward possa aver controllato il suo telefono nella notte dell'omicidio. Magari si era accorto della chiamata che lei poco prima aveva fatto all'ex, che lui non gradiva. Poi la polizia scopre anche che il DNA di Edward era presente sul sedile posteriore dell'auto di Meghan, dietro il lato del conducente. Certo lui sicuramente era già salito in macchina di lei, ma perché le tracce si evidenziano in questo punto? Potrebbe voler dire che quella notte Edward era saltato a bordo dell'auto e l'aveva attaccata alle spalle, o che non era il solo essere seduto in macchina con Meghan. Tra l'altro la residenza di Edward si trova a meno di 200 metri dal complesso di appartamenti di Kensington Manor, dove era stata trovata la macchina di Meghan. Inoltre come sappiamo Edward aveva acquistato una Honda Civic Berlina Viola, automobile corrispondente a quella che seguiva la macchina della ragazza nel complesso residenziale la notte dell'omicidio. Infine il punto in cui era rimasta parcheggiata l'auto di Meghan, sempre nel nucleo abitativo in questione, era ben visibile dalla casa di Edward. Eppure lui non aveva avvisato la polizia pur sapendo che i detective stavano cercando la macchina della ragazza da ben tre giorni. Nel corso delle lunghe indagini alcuni testimoni hanno anche riferito alla polizia di aver avvistato Edward con Meghan quella notte. Lui aveva in realtà fornito numerosi alibi a sua discolpa che grazie all'uso delle nuove tecnologie di analisi dei dati del cellulare si sono rivelati falsi. Infatti il cellulare di Edward si trovava nella stessa posizione di quello di Meghan la notte del suo omicidio. La polizia afferma anche che quando aveva interrogato di nuovo Edward nel 2019 lui aveva fatto delle dichiarazioni sospette. Diceva di sapere già che Meghan era stata uccisa la mattina del 14 marzo quando ancora tutti erano convinti che lei fosse, permettetemi il termine, semplicemente scomparsa. Edward invece dava per scontato che era stata uccisa anche se non disponeva di informazioni concrete per dichiarare una cosa del genere. Nell'aprile del 2023, a ormai 42 anni, Edward Holday viene arrestato per l'omicidio di secondo grado di Meghan McDonald. Nella fattispecie dell'omicidio di secondo grado la morte della vittima è causata intenzionalmente ma senza una deliberata premeditazione. Secondo gli inquirenti Edward era arrabbiato perché la ragazza di cui era ancora infatuato lo aveva lasciato. Dunque probabilmente l'aveva seguita e affrontata oppure lei lo aveva fatto entrare nella propria macchina nella speranza che lui avesse un po' di sostanza leggera da darle. A prescindere dalle due diverse circostanze, Edward di certo si è seduto sul sedile posteriore dove il suo DNA è stato trovato. Non soltanto Meghan aveva già un nuovo ragazzo ma aveva addirittura contattato un ex del passato verso cui lui era sempre stato ostile. Probabilmente Edward si è sentito preso in giro in un impeto di rabbia. L'ha uccisa. Ecco perché arriva a processo con l'accusa di omicidi di secondo grado perché potrebbe aver consumato l'omicidio guidato dall'impulso del momento. Al contrario se anche l'avesse pianificato purtroppo la polizia non può provarlo. Mancano i presupposti. La denuncia penale rilasciata dalla polizia attribuisce un significativo overkilling nell'operato del presunto assassino. Questo termine viene utilizzato per indicare l'utilizzo di una forza eccessiva o l'impiego di un'azione sovraccaricata rispetto a quanto sia necessario per uccidere la vittima. Dunque chi ha ucciso Meghan era davvero molto arrabbiato con lei e Edward aveva un valido movente. È ormai chiaro che lui si trovava con lei quella notte e tutte le prove raccolte dalla polizia portano direttamente a lui. Gli inquirenti sono davvero orgogliosi di annunciare l'arresto. Il caso era rimasto irrisolto per ben 20 anni. Quando viene arrestato Edward si sposta da tempo sulla sedia a rotelle perché nel 2007 era stato coinvolto in un grave incidente automobilistico. Tuttavia a distanza di una settimana dall'arresto accade l'inimmaginabile. Edward viene rilasciato. Emerge che c'è stata un'irregolarità relativa all'atto dell'arresto. Un investigatore dello stato di New York aveva firmato la denuncia del reato scritta dalla polizia ma quest'ultima non aveva comunicato formalmente le accuse all'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Orange. Costui, David Hoover, sostiene che non ci sono le tempistiche adeguate per presentare le prove al gran giurì per costituire l'accusa. Quindi Edward viene rilasciato. L'ufficio del procuratore distrettuale rilascia una dichiarazione in cui afferma di essersi limitato a consultarsi con la polizia dello stato di New York durante le indagini ma, come detto, non era stato avvisato dell'imminente arresto dell'imputato. Dunque non aveva dato l'opportunità di riesaminare la denuncia di reato di 17 pagine prima che venisse depositata in tribunale. Dalla dichiarazione si apprende anche che all'avvocato di Edward non era stato consentito l'accesso per parlare con il suo assistito fino a nove ore prima dell'udienza di citazione in giudizio programmata. Avrebbe potuto confrontarsi con lui tramite la piattaforma Zoom ma ha affermato di non essere riuscito a stabilire un collegamento. Dunque il legale sarebbe andato all'udienza senza una preparazione adeguata per difendere il suo cliente. Come se non bastasse si mettono in evidenza dei problemi di accessibilità sui veicoli di trasporto per chi utilizza la sedia rotelle. Insomma sembra che l'intera faccenda sia disastrosa e che non ci sia comunicazione tra le parti coinvolte. Si segnala anche un potenziale conflitto di interessi che riguarda proprio Hoover, il procuratore distrettuale, dato che in precedenza aveva rappresentato un cliente che era un testimone nella vicenda di Meghan. Quindi egli stesso ritiene opportuno che il caso venga gestito da un altro pubblico ministero. L'ultimo articolo che ho trovato su questo per ora. Cold Case risale a maggio del 2023 e sembra che Edward sia tuttora libero mentre la famiglia McDonald dopo più di vent'anni sta ancora disperatamente aspettando l'arresto del mostro che ha brutalmente ucciso Meghan. Ovviamente per Edward verrà fissata una nuova udienza visto che secondo gli inquirenti è lui il colpevole dell'omicidio della ventenne. Quindi terrò d'occhio questo caso e vi aggiornerò sulla pena che gli verrà inflitta. Nel frattempo mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate voi. Edward è davvero colpevole oltre ogni ragionevole dubbio secondo voi? A collegarlo al delitto di Meghan come detto c'è la presenza delle tracce di DNA all'interno dell'auto della vittima ma attenzione non sul corpo di Meghan. E bisogna ricordare anche che Edward essendo stato il suo ragazzo magari era salito spesso in quella macchina. Tuttavia per la polizia Edward è l'unico ad avere un movente valido per l'omicidio. Secondo voi l'assassino potrebbe essere qualcun altro? Il fatto che il sospettato numero due di cui non è mai stata resa nota l'identità è venuto a mancare nel 2010 di certo non può renderlo automaticamente innocente. Giusto? È vero però è un dato di fatto che il suo DNA non è stato trovato nella macchina di Meghan quindi non ci sono prove che lo collegano al delitto. Qual è il vostro parere in merito? Io penso vi dico ora la mia opinione io penso che sia Edward il colpevole ma il fatto che abbiano trovato il DNA nella macchina di Meghan ma non sul corpo di Meghan potrebbe non rendere l'accusa così tanto solida. In pratica potrebbe esserci un ragionevole dubbio per la giuria quindi vi terrò aggiornati e vedremo come andrà a finire questo processo. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendete il cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.